Va bene, entriamo, torniamo seri, entriamo nel tema di oggi. Ragazzi, noi non siamo dei mostri, ovviamente, come sempre facciamo, cercamo, non sono un mostro, come sempre faccio, cerco di affrontare con leggerezza quello che poi è un tema più che mai importante, più che mai attuale, più che mai intendo che non è una cosa anacronistica, anzi più che mai oggi contemporaneo, per tanti motivi. Il primo è che sono rimasti, e non so se lo sapete, ma pensateci, pochissimi superstiti dell'Olocausto, e questo pone un problema importante su poi quella che sarà l'eredità della testimonianza, cioè, pensate una stronzata, no? Se già esistevano negazionisti quando, in piena, diciamo, in piena rimembranza, cosa succederà un domani che non c'è nessuno di vivo che dice, io ero lì, ma che cazzo dici, no? Tra l'altro ho visto giusto oggi che, in occasione del giorno della memoria, hanno dato una laurea ad honorem in scienze storiche alla Segri, la senatrice. Vabbè, giustissimo, giustissimo, ma... Segre, segre. Credo, credo che si faccia sempre poco in questo senso, perché ho come l'impressione che le persone non capiscano che l'Olocausto ancora non si può pienamente riferire alla storia. Allora, la menzione importante che vi faccio, oggi avrebbe voluto essere qui con noi a Zurrona, però si collegherà comunque, e mi ha dato un ottimo consiglio. Mi ha fatto conoscere un autore, su cui lei ha anche scritto, quando era a Berlino, un seminario, se non mi ricordo male, e mi ha segnalato questo autore, che mi è piaciuto come lei me l'ha presentato. Quindi sono andato a prendere un suo libro, lei poi mi ha scritto qualche riga per quello che voleva fosse, diciamo, più o meno il suo intervento, quello di cui avrebbe parlato, e effettivamente ho beccato proprio il libro principale di quest'autore, di cui vi parlerò dopo, e devo dire che sicuramente quest'autore lo approfondirò ulteriormente, perché mi ha molto colpito, mi ha molto sorpreso. Il titolo del libro è bellissimo, il contenuto lo è altrettanto, e la cosa che più mi ha sorpreso di questo libro è la modernità, il del modo in cui scrive l'autore. Cioè è veramente brillante come autore, e io non lo conoscevo. Inizierei parlando proprio di Ashby, che per noi italiani poi è stato uno dei luoghi più iconici, perché è uno dei nostri più grandi narratori, ovviamente sto parlando di Primo Levi, che spero non ci sia bisogno di presentare a nessuno, ma tradizionalmente, e io infatti comunque l'ho portato, questo ovviamente è la principale e maggior testimonianza di Primo Levi, e questo è un uomo, sua opera magna, che introduce poi quella che è il ciclo della tregua. Beh, penso uno dei libri più assolutamente più... Secondo me è proprio... Più conosciuti del tema. Sì, da noi italiani sicuramente, ed è quello che secondo me costituisce una pietra miliare della letteratura post bellica in Italia, post holocausto diciamo in Italia, ed è irrinunciabile. Se vuoi leggere dell'olocausto e sei italiano, il punto di partenza dovrebbe essere Primo Levi. È stato anche un buon narratore, nel senso che ha scritto tanto altro, ha scritto... Se vi interessa un aspetto più suo biografico, se questo un uomo non è, diciamo, l'indicato, l'immaggior... migliore sarebbe tipo il sistema periodico, che vi ho portato, se non mi ricordo male, e poi c'è comunque la chiave a stella, con cui vinse il premio strega, e poi gli altri libri del ciclo della tregua, quindi sommersi e salvati, e la tregua, quindi il suo rientro. Lui non ha passato ad Auschwitz 15 anni, anche perché in realtà di solito si ha una percezione, data l'enormità di quello che è successo in questi campi, si ha una percezione del tempo molto dilatata, quando in realtà Auschwitz durò pochi anni, e Levi in particolare, mi sembra un anno, forse, venne arrestato alla fine del 43 e poi Auschwitz venne liberato, non vorrei dire cazzate, ma mi pare il 18 gennaio del 45, quindi più o meno siamo un annetto, perché poi fra l'arresto e la deportazione passò un po' di tempo. Io inizierei dando, come si fa sempre, come si fa sempre... Un po' di incipit. Come si fa in questo caso, come secondo me bisognerebbe fare in questo caso, per dare una dimensione a quello di cui parliamo, no? Che non sia soltanto verbale. Io inizierei parlando di qualche numero. 60 milioni. 60 milioni è il numero stimato delle vittime totali della Seconda Guerra Mondiale. Vittime totali, quindi compresi soldati. Quindi l'Italia è morta. L'Italia è morta, esatto. Un paese come... Immaginate un paese come l'Italia, una delle densità abitative più alte d'Europa, tra l'altro, ricordiamo, cioè non soltanto in estensione, ma figuratevi l'Italia e pensatela svuotata. Quello è un bilancio umano, il costo umano della Seconda Guerra Mondiale. Poi caliamo un po', e diciamo 17 milioni. E 17 milioni sono le vittime della Shoah, cioè sono le vittime dell'Olocausto. Che ricordiamo non comprende soltanto... Assolutamente non comprende... Ebrei, solo gli ebrei. Solo gli ebrei. Fu un genuiscidio orizzontale proprio. Sì, assolutamente indiscriminato, diciamo, rivolta a un certo tipo di categorie. Con Olocausto si intende, per la precisione, la politica di effurazione di massa che si è concentrata negli anni, in realtà che vanno dal 33 al 45, quindi all'effettiva fine della guerra. Perché non pensate che quando mai era chiaro che la guerra era perduta per l'asse, per la Germania in particolare, loro abbiano smesso. Assolutamente no. Loro continuarono con ancora più frenesia, incentivati dalla politica di Hitler, da Himmler. Heydrich mi sembra fosse già morto. Di solito si fa confusione, o non si fa distinzione, che invece è importante farla, tra i campi di concentramento e i campi di sterminio, che sono due cose spesso diverse, ok? Inizialmente non c'erano campi di sterminio. All'inizio c'erano solo campi di concentramento, con una concezione, diciamo così, di contenimento, di concentramento, dei dissidenti e dei nemici politici, e non solo, del Reich. Poi, con l'avanzare del, col passare del tempo, con l'inasprirsi della politica nazista, divennero alcune sezioni... Campi di sterminio. Campi di sterminio. In totale si stima, a posteriori ovviamente per una ricostruzione, anche dovuta al processo poi di Norimberga, che furono 44.000 le strutture adibite, in qualche modo, allo sterminio o al concentramento. 44.000? 44.000 stabilimenti, se vogliamo così, dai più piccoli ai più grandi... Facciamo ancora un passo indietro, e da 17 milioni, diciamo 6 milioni. E 6 milioni è la cifra più o meno precisa, per quanto precisa il nostro più o meno, sono decine di migliaia di persone. 6 milioni sono gli ebrei, che sono morti. Quindi meno della metà del totale. Sì, il che equivale, secondo alcune stime, a circa i due terzi degli ebrei in Europa. E poi facciamo ancora un passo più indietro, e diciamo un milione e mezzo. Un milione e mezzo sono le vittime nella sola Auschwitz. Quindi io partirei proprio da quel cortile, che anche te hai visto, di Auschwitz, dove nel febbraio del 47 viene impiccato un uomo. E non fucilato perché la fucilazione era per i soldati, mentre l'impiccazione è per i criminali. Viene impiccato Rudolf Huss. Chi era Rudolf Huss? Fu l'ideatore del... Del sistema delle dolce. Del sistema delle dolce, del sistema di gasaggio del... Delle vittime del genocidio. Esatto. Sì, dello Zircon B, che era un gas usato per le disinfestazioni, solo a concentrazioni molto più elevate. Criminali di guerra, ufficiale delle Schulstaufen, delle SS, e successivamente, per due anni, all'apice della sua carriera, comandante ad Auschwitz. Lui creò letteralmente da zero Auschwitz, la progettò, la realizzò, la costruì, la amministrò per due anni e poi venne trasferito direttamente alla soprintendenza dei campi di concentramento, quindi lui era l'ispettore che andava nei vari campi, no? Auschwitz venne, si ingrandì enormemente, fino a poter ospitare, pensate, 200.000 persone per volta. Una roba fuori di testa, in condizioni igieniche, umane, da inferno, letteralmente da inferno, e con la conseguente e contestuale purazione di un milione e mezzo di persone. Rudolf Hess verrà trasferito, poi verrà messa alla soprintendenza dei campi, dove continuerà a fare quello che sa fare meglio, quindi cercare di ottimizzare il processo di eliminazione fisica delle persone. Alla fine della sua vita, Auschwitz, ateo convinto, si convertì al cristianesimo. Si convertì al cristianesimo nel giusto momento per delegarsi a Dio. Nel giusto momento, in extremis. Ti prego Dio, perdonami per quello che ho fatto. E, non contento, decise di scrivere le sue memorie. Memorie che possiamo leggere ancora oggi, e che io vi ho portato, perché le ritengo una delle letture più significative da fare in questo senso. Le sue memorie portano ancora oggi il titolo che lui stesso gli diede, che è Comandante ad Auschwitz. Il libro è questo. È una lettura abbastanza breve in realtà. Qui è corredata da un saggio di Alberto Moravia, da una piccola prefazione, ma sono due pagine, di Primo Levi. Mi sembra che Levi non abbia mai conosciuto Hoss, perché arrivò dopo. La cosa divertente è che in diversi hanno sentito questo bisogno di chiarire le azioni postume. Tra l'altro... Ok, è un bel accostamento. Entrambi sono tra l'altro editi da Einaudi. La cosa che fa ridere di quello che scrive Hoss, a parte è il suo esporre cattedraticamente come... Cioè lui proprio ne va a fiero dell'aver costruito il campo, di come... Cioè lui proprio ci tiene a far capire il duro lavoro che c'è stato nella realizzazione del campo di Auschwitz. Cioè proprio lui si addentra nelle dinamiche politiche del... Non so se lo sapete ma la burocrazia del Reich era intricatissima. Tant'è che poi successivamente è stato molto difficile per gli alleati e per gli storici ricostruire la gigantesca macchina di epurazione nazista che si concentrò sul nascondere le prove verso il fine della guerra no? Tipo uno dei peggiori campi di sterminio cioè nato e estinto come campo di sterminio mi sembra durato un anno e mezzo che è Treblinka dove vennero epurate un milione di persone e lì non c'erano dormitori cioè ti arrivavi morte se devi dal treno in circa 15 minuti ti eri già gasato quindi si sosteneva circa un ritmo di mi sembra 1500 persone al giorno una cosa del genere fortunatamente oggi possiamo leggere anche la testimonianza del commandant di Treblinka che si chiamava Franz Stangle e prima ancora aveva fatto il suo tirocinio a Sobibor che era un altro campo di sterminio ma Treblinka come direbbe l'auto nella commedia della satira che disse tutta nostra est lui direbbe che Treblinka tutta mia est l'ha fatta tutta lui invece a Sobibor subentrò il libro che invece ne racconta ve l'ho già fatto vedere ma ve lo rifaccio vedere che è In Dead Darkness si chiama In Quelle Tenebre scritto da Gitta Sereni che intervistò personalmente uno di uno Franz Stangle a più riprese quello che alla fine prese coscienza e si uccise no? quello che no ma che si uccise morì 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 non si di un malore dopo dieci anni di prigione dopo aver finito l'intervento l'intervista l'ultima intervista lui nella notte si sentì male e morì un uomo tranquillo osato vagamente acculturato vi dico anche della banalità del male scritto da Anne Arendt filosofa e corrispondente del mi sembra del The New Yorker che andò a presenziare questo è Franz Stangle andò a presenziare al al processo in Israele quindi siamo in una nota di contesto contemporaneo di cui Adolf Eichmann Gerarca nazista a cui dobbiamo il miracolo logistico dell'olocausto quindi quello che ha progettato le ferrovie e tutti i vari sistemi di trasporto per ottimizzare il trasporto dei prigionieri più volte menzionato da Rudolf nelle sue memorie di cui era grande amico e a sua volta Eichmann ne fa un accenno Anna Arendt sostanzialmente fa da corrispondente per questo processo farsa di Eichmann non è la mia lettura preferita la banalità del male perché è veramente faziosa e perché la Arendt fa una cosa che secondo me ha svalutato tutto commenta e dipinge Eichmann come uno scemo cioè lo ridicolizza proprio come se fosse un ritardato cioè che è scemo che si contraddice che fa un po' il cretino che è anometto perché comunque non è che lo prendono dopo due giorni il Mossad va a rapirlo in Brasile e poi lo riporta indietro lo ridicolizza lo spersonalizza no? cosa che non andrebbe mai fatta mai ok? lì per lì può dare soddisfazione a te ridicolizzarlo e renderlo a una dimensione calciabile e dire guarda è un omuncolo guarda che ha fatto un omuncolo invece te fai un grosso errori perché non è un omuncolo è un uomo e come l'ha fatto lui lo potrebbe fare chiunque e quello che si vede infatti anche di quando Huss racconta la sua storia è la storia di una persona normalissima che ha fatto il soldato perché non sapeva che cazzo fare e poi tornato dalla guerra della prima guerra mondiale arrivò in patria la sua eredità dei genitori che erano morti l'avano presa su parenti lui rimase senza nulla e fece vabbè boh se fa solo il soldato continuo a fare il soldato però non c'era più nessuna guerra e quindi che si fa ma allora mi arruolano i corpi volontari che erano un po' degli anarchici e poi questi corpi volontari saranno poi quelli che successivamente diventeranno le SS quindi le SS che fai? non continui sotto il partito che ti senti investito di questi poteri straordinari che sono un po' militari un po' polizieschi e poi tac ti trovi a far comandante ad Auschwitz e Adolf Eichmann era uno che sapeva gestire bene la logistica anche lui molto servile molto accondiscendente incapace di scegliere grigio in colore una persona qualunque cioè chiunque di noi di strada può incrociare tante volte Adolf Eichmann e non serbarne nessun ricordo ma nel giusto contesto storico il signor Eichmann ha organizzato la logistica dell'olocausto non era un ritardato non era uno stupido non era difettato nato scemo e assurdo ha un ruolo ridicolo in un contesto burocratico paradossale no perché anche il titolo della Arendt la banalità del male dice che praticamente perché è stato fatto in questo modo perché ti dice che loro non sono mostri il male è banale sono persone incapaci di pensare alle proprie azioni sono incapaci di soppesare le proprie azioni secondo me no secondo me Eichmann andava dipinto come una persona perché queste cose le hanno fatte le persone non le hanno fatte delle caricature dei personaggi di fumetti non le hanno fatte l'intelligenza artificiale non è una storia non è fiction questa è la storia non è un fantasy e la storia è fatta da persone che possono risultare più o meno stupidi o anacronistici nei loro atteggiamenti ma comunque persone insieme ad altre persone che hanno ucciso milioni di persone assolutamente sì e grazie all'aiuto di alcuni funzionari della chiesa cattolica Eichmann riusciva a diffugiarsi in Argentina dove visse sotto il nome di Clement è verissimo perché la chiesa cattolica soprattutto nei panni di alcuni cardinali aveva il beneficio di poter rilasciare dei passaporti dall'Europa ormai occupata dagli alleati a nome della croce rossa escamotage che venne usato più volte per permettere a diversi gerarchi nazisti di emigrare prima in Medio Oriente di solito a Damasco in Siria se non mi ricordo male e da lì poi in Sud America dove c'erano delle aziende Sud America Sud America insomma ci fu una grande emigrazione Sud America in particolare ha praticamente fatto ciò che il cinema americano ha fatto a noi italiani dipingendoci come i poveri scemi succubi del potere tedesco e non come collaboratori esatto cioè ridicolizzando lei ha tolto la responsabilità dalle spalle dell'uomo e di Eichmann perché la propria presa ha detto questo non è come noi lui è un caso a parte è proprio scemo non sapeva cosa stava facendo non sapeva cosa stava facendo da lì si contraddice balbetta fa lo scemo le cose assolutamente no e oggi vedete che comunque siamo molto vicini di nuovo a quel punto siamo di nuovo vicini a un contesto bellico e se non pensate che questo sia possibile noi parliamo di holocaust e parliamo di lagere ma non si parla dei gulag non si parla dei laogai che sono l'equivalente dei campi di brainwash però in Cina quindi questo è il secondo motivo che vi dicevo all'inizio è importante ricordare è importante il giorno della memoria perché perché ragazzi ci siamo lì un'altra volta ci siamo alle soglie di una guerra che potenzialmente può essere decine di volte più distruttiva di quella appena passata ah già dimenticavo non ve l'ho fatto vedere questo è ovviamente quello di cui vi ho parlato la banalità la banalità del male bellissimo la copertina l'edizione l'universale economica feltrinelli poi tra l'altro l'arente va anche più in là nel senso ci sono tutti i vari ricostruzioni della situazione dell'olocausto il bilancio dell'olocausto in Europa è diviso per vari paesi in Norvegia in Danimarca negli stati baltici in Italia dove sorprendentemente noi siamo stati poco colpiti dalle deportazioni di ebrei insieme nell'ordine di 5-7 mila in totale tutti quelli del io credo che ora non so perché è un'idea che ho io potrei assolutamente essere sbagliato credo che in Italia diciamo l'influenza cioè il numero non è poi così tanto alto rispetto ad altre nazioni perché comunque è stato una sorta di controeffetto cioè essendoci già qui la dittatura di Mussolini col fascismo c'era già un sistema interno di ribellione e protezione più sicuramente funzionante magari rispetto a nazioni dove questo non c'era quindi protezione in che senso aspetta? parlo in senso di partigiani o comunque di un certo tipo di attenzione nei confronti della comunità quindi ma gente che si è aiutata fra di loro gente che ha fatto scappare gente che ha nascosto perché comunque il clima da dittatura era già presente quindi diciamo era un sistema tragicamente erodato no? piuttosto che te arrivi a Parigi dove non c'era mai stato niente del genere e ti ritrovi lì e vengono viene portato via chiunque e oltre a questo c'è da aggiungere che penso e non ne sono certo che in Italia la cosa fosse affidata al fascismo quindi alle truppe la maggior parte alle truppe italiane che di per sé non avevano l'efficienza fortunatamente di quelle tedesche allora in tutta la ricostruzione che fa tra l'altro la Arendt della situazione europea dell'olocausto delle deportazioni e delle purazioni razziale si capisce una cosa che in Italia hanno poco attecchito le leggi razziali perché se voi se volete una testimonianza più attendibile di questo discorso per esempio Primo Levi nel sistema periodico dice che lui quando si è laureato per esempio c'erano alcune cose quando vennero introdotte le leggi razziali in Germania e gli italiani vennero caldamente consigliati in tal senso cioè emulare la Germania Mussolini era un po' ritro... diciamo non era molto per la quale non è stato mai particolarmente antisemita il fascismo poi in qualità di alleati della Germania la Germania non è che poteva occuparti però caldamente insisteva e qualcosa partiva e i gerarchi italiani altrettanto caldamente diciamo che essendo italiani anche il sistema del vabbè ma magari lui è ebreo però è direttore di banca o è amico o è cugino cioè lo stesso Primo Levi diceva e si strizzava l'occhio e diceva boh vabbè lascia fan ti preoccupare lo stesso Primo Levi sto banalizzando per alleggere i ragazzi no 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 però diceva nel senso che lui non ha mai avuto particolari difficoltà a lavorare o andando per la strada si sentiva discriminato Primo Levi nel senso addirittura un lavoro gli venne commissionato da un militare da un tenente dell'esercito italiano che lui si aspettava lo trattasse in modo dove è invece questo ragazzo perché era giovane tranquillissimo poi quando la situazione iniziò a precipitare e soprattutto dopo il Volta Gabbana dell'Italia nei confronti della Germania tutti gli ebrei ammassati dopo tantissime insistenze della Germania vennero tipo a Roma vennero rastrellati cioè in realtà semplicemente vennero spostati da Roma e spostati in un ghetto fuori Roma allora nel parapiglia che seguì il Volta Gabbana dell'Italia questi ebrei vennero deportati circa 5-7 mila persone se non ricordo male di cui ritornarono ovviamente poche centinaia facevano eccezione chiaramente nell'Italia occupata poi i geni arrestati e così dicendo in realtà ci furono anche dei rifiuti piuttosto categorici degli italiani a consegnare gli ebrei ad esempio nel contesto bellico quando l'Italia invase l'Albania durante l'occupazione delle varie fasi belliche la Germania caldamente a lungo la mano gli disse come diceva tutti i stati collaboratori alleati e occupati dovete consegnare gli ebrei anziché passare la comunicazione che era arrivata al generale anziché passarla a Mussolini o all'alto comando italiano gli rispose il generale in persona di suo pugno a quello che era poi l'equivalente di Eichmann capi che questo era il ruolo di Eichmann gli rispose di suo pugno dicendogli che consegnare prigionieri di guerra perché venissero sottoposti a un trattamento del genere era immorale e indegno dell'onore dell'esercito italiano e i nazisti in realtà anche nei paesi occupati sono sempre stati poco propensi ad insistere molto su questo punto è paradossale tutta la collaborazione che loro hanno avuto è stata esattamente questo collaborazione quello che io dico sempre quando si parla di queste cose è che non è che l'antisemitismo l'hanno inventato tedeschi l'antisemitismo c'è sempre stato e in Europa costituì un elemento di propaganda fondamentale nel caso del terzo Reich della propaganda del terzo Reich quella italiana fu una chiave di volta ma c'era malcontento in tutta Europa contro gli ebrei quindi loro hanno semplicemente cavalcato un elemento di propaganda oggi in Italia e non sto equiparando le cose a livello sociale sto soltanto tracciando un parallelismo a livello tematico e di propaganda come oggi si dice del problema dell'immigrazione ok e governo o esponenti e forze politiche lo cavalcano se con fare demagogo o no è indifferente però lo cavalcano per un fine così a suo tempo 90 anni fa veniva cavalcato il tema dell'antisemitismo anche gli stessi russi si trovarono a tacciare il bolshevismo di matrice ebraica per screditarlo a quel tempo diremmo l'hanno fatto gli ebrei era un modo per dire è stupro troviamo un nemico ingannevole ci sono stati stati pensate il più paradossale è stata la Danimarca le deportazioni furono veramente risicate fu l'unico caso in realtà in cui le SS di stanza in Danimarca si rivoltarono contro l'alto comando tedesco e quindi quando venne l'ordine di deportare perché varie insistenze e il comandante di stanza faceva si si ora si fa ora si fa ora si fa ora si fa quando poi venne la pressione da Eichmann e gli disse o lo fate o vengo io il comandante disse vabbè si fa e in realtà comunicò in sordina alle persone che quella notte sarebbero passate a rastrellare quindi vennero rastrellate tipo 10 persone e le altre si erano organizzate per scappare in traghetto in Norvegia dove chi aveva più soldi pagò per chi ne aveva meno la Danimarca è stato un unicum nel panorama dell'olocausto europeo fu una solidarietà incredibile e fu l'unico posto l'unico paese in cui le SS si rifiutarono categoricamente e collaborarono è stato molto anomalo e questa cosa venne tenuta di conto quando poi il comandante dell'SS danese venne processata a Norimberga e lui si consegnò un cazzo ah disse ok colpa mia e disse no disse ho una responsabilità in questa roba sono il comandante tal dei tali di distanza a Danimarca per questo questo e quest'altro sono qui per rispondere delle mie colpe della mia partecipazione e pensate che i vari crimini nel processo Norimberga quelli crimini ma almeno la dignità di consegnarsi nel senso lo sai cosa sono i giusti fra le nazioni i giusti fra le nazioni non erano quelli premiati sono quelli per aiuti o che hanno fatto po' azioni diciamo bravo volte a diciamo salvare vite contro il loro stesso interesse durante l'olocausto e ce ne sono stati tantissimi cioè sono centinaia di persone in questo albo che viene conservato mi sembra proprio in Israele praticamente c'è stato un giornalista americano che chiamava Varian Fry che era in Europa ovviamente voi sapete che all'inizio gli americani in Europa erano intoccabili perché quando prima che dichiarassero guerra lui si trovava in Francia e quindi tramite l'intelligence americana ricevette l'incarico quando chiaro si stava rannuvolando di fare evacuare dall'Europa occupata intellettuali ebrei più importanti e lui li salvò tanti organizzando tramite vari trasporti clandestini soprattutto in Francia tra le persone salvate da Varian Fry quindi da questa da questa operazione insordina di salvataggio ci fu Max Ernst per chi non lo conosce è un pittore surrealista era la stessa Anna Arendt Anna Arendt era bloccata in Francia riuscì a fuggire grazie a Varian Fry vedete come tutto poi tutto torna in qualche maniera torna sempre però io comunque credo che per tornare alla banalità del male appunto questo risentimento questo tuo modo di scrivere anche di Eichmann probabilmente c'era anche una componente di forte emotiva emotività e di risentimento ma te lì hai una responsabilità e la tua responsabilità è più grande siamo umani siamo umani ma te sei nata lì mesi a seguire le sedute del processo che comunque era un processo politico nel senso che lo stato di Israele aveva bisogno di legittimarsi e di far vedere che cacava addosso agli stati arabi che erano stati filo nazisti voleva cacargli addosso e voleva farli vedere loro potevano processare da solo i loro criminali e non il tribunale fatto dall'americani che era il tribunale dei vincitori il dramma era stato in parte anche ebreo e loro volevano assolutamente che questa cosa venisse riconosciuta però alla fine il processo di Eichmann fu da un punto di vista giuridico un fallimento perché non si riuscì nonostante tutta la procedura giuridica a condannare Eichmann per qualcosa che non fosse crimini contro gli ebrei legalmente loro non hanno vinto su Eichmann capito hanno condannato a morte Eichmann è morto e la Arendt è andata lì con una responsabilità secondo me fondamentale che non era quella di fare la reporter ed è basta ma avrebbe potuto dipingere Eichmann in una dimensione reale che rendesse bene la mostruosità di questo soggetto ma allo stesso tempo chiunque poteva essere Eichmann questo era importante per la memoria storica successiva doveva essere chiaro questo non un omuncolo scemo il fatto che chiunque nel giusto contesto può essere Adolf Eichmann però ripeto ok si letta a posteriori con lucidità è tutto è un conto un'altra è trovarsi davanti all'uomo che in prima persona ti ha arrecato così tanto dolore a te a tutte le persone che ti sono state intorno nella vita e non solo a un certo punto forse anche un processo di difesa quello di ridicolizzarlo cioè da il classico vedi un mostro e gli metti il naso rosso le orecchiette per renderlo ridicolo e non aver più paura comunque io proprio leggendolo io a volte proprio provavo fastidio cioè della serie che leggevo sì ma dimmi i fatti non mi di che era scemo rincoglionito che faceva la voce e faceva versi cioè è un vecchio era un vecchio mezzo rincoglionito dal tempo probabilmente ma questo vecchio ha organizzato la logista dei trasporti di 17 milioni di persone che sono morte gasate e poi bruciate cerchiamo di dare una dimensione importante a questa cosa qui invece di fa semplicemente roba del genere la domanda che vi faccio io è questa secondo voi alla luce di tutto questo oggi sarebbe possibile etnicamente una cosa simile all'olocausto? beh sta avvenendo con gli stessi volumi con gli stessi volumi ora è perché nel caso della Germania riuscì a fare questa cosa perché tutto lo Stato tutta l'infrastruttura il ministro della giustizia quello dei trasporti non fu l'alto comando nazista io ti dico cioè in questo mondo stanno succedendo non con questi numeri ma succedono da da decenni cioè ci sono varie zone del mondo del Medio Oriente dell'Africa parliamo di Israele e Palestina sì dove ciclicamente c'è proprio una caccia etnica a un determinato ma persone determinate religioni o determinate situazioni quindi non è una cosa che non succede più ora che si ritorni a un sistema così è impossibile secondo me con questi numeri ma semplicemente perché perché se parte una roba del genere c'è l'esportatore di democrazia che sgancia 14 nucleari e quindi bene o male tutto bene o male si placa poi nucleare dall'altra parte insomma è tutta una grande festa quindi è quello un po' il freno della massa cioè del grande numero perché è un deterrente in qualche maniera la devastazione poi di tutti e di tutto non solo però succede costantemente e di popoli a fare le spese sono popoli di cui frega un cazzo a nessuno cioè nel senso non in senso letterale ma in senso drammatico cioè quando c'è sciiti sunniti o vediamo appunto ora con quello che sta avvenendo tragicamente in palestina che io onestamente definisco un genocidio a tutti gli effetti perché non riesco a non definirlo tale visto che va bene la guerra al terrorismo ma se nella tua caccia al terroristi il 95% sono vittime civili se non di più evidentemente stai mirando a distruggere come un'etnia o come può essere in tante parti so anche in Sud America ci sono state movimenti del genere per determinati paesi città o gruppi religiosi o politici anche quante ne vogliamo citare guarda il commento di Save è abbastanza secondo me no perché il mondo giovanile è piuttosto unito io ti chiedo allora quanto potere ha il mondo giovanile rispetto all'altro e mi fa venire a mente questo libro che vi ho portato l'altra volta il mondo di ieri di Stefan Zweig no ti ho segnato un punto che è molto indicativo di questo aspetto che ti hai detto e che vi prego ragazzi di notare che questo libro è stato scritto nel 41 sono passati 83 anni esattamente più o meno perché Zweig si uccise e terminò questo libro a febbraio del 41 ha un passaggio che è veramente tristemente simile alla condizione di oggi il contesto è questo Zweig è in Inghilterra nel periodo di massima tensione dove c'è da una parte Chamberlain che sta cercando di mediare con Hitler prima dello scoppio della guerra e poi alla fine ovviamente non ci riesce eccolo qui leggi da qui sentite quanto questa cosa è uguale a oggi si parla di 80 anni fa io me ne stavo lì individuo vigile e pensante estraneo a ogni politica immerso nel mio lavoro intento con pacata tenacia a trasformare i miei anni in un'opera ma altrove in qualche punto invisibile del mondo esisteva una dozzina di altri individui a noi sconosciuti un paio di Wallmestrasse a Berlino e poi Alcai Dosrai a Parigi Palazzo Venezia a Roma e di Dogwing Street a Londra e queste 10 o 20 persone delle quali ben poche avevano dato prova fino ad allora di particolare intelligenza o abilità parlavano scrivevano e telefonavano accordandosi su cose da noi ignorate prendevano decisioni a noi estrane che non ci venivano se non sommariamente comunicate ma che eppure avevano definitivo influsso sulla mia esistenza e su quella di ogni altro europeo nelle loro mani nelle mie mani non nelle mie scusate stavo ormai la mia sorte essi distruggevano oppure risparmiavano noi impotenti ci concedevano la libertà o ci imponevano la schiavitù determinavano per milioni di uomini la pace o la guerra e io me ne stavo lì come tutti gli altri nella mia stanza indifeso quanto una mosca impotente quanto una lumaca mentre ne andava della vita e della morte del mio più intimo del mio avvenire dei pensieri che sorgevano nel mio cervello dei piani nati o nascituri per il mio lavoro della mia veglia e del mio sonno della mia volontà e dei miei averi di tutta insomma la mia esistenza si stava lì ad aspettare guardando nel vuoto come un condannato nella sua cella incatenati a quell'assurda e in belle attesa i compagni di prigionia a destra e a sinistra interrogavano consigliavano e chiacchieravano come se qualcuno sapesse o potesse sapere quel che si stava decidendo di noi suonava il telefono ed era un amico che mi domandava che cosa pensassi arrivava il giornale che serviva soltanto a confondere le idee si accendeva la radio e una notizia contraddiceva l'altra si usciva e il primo conoscente incontrato esigeva da me ignaro quanto lui la profezia se ci sarebbe stata la guerra o no e ciascuno a sua volta nella sua inquietudine poteva la stessa domanda chiacchierava e discuteva pur sapendo benissimo che ogni cognizione ogni esperienza e previsione raccolta e preparata da anni era priva di valore di fronte alla decisione di quella dozzina di estranei che per la seconda volta nel corso di 25 anni ci si trovava privi di volontà e di potere in faccia al destino con pensieri insensati che pulsavano alle tempie dolenti per chi ha seguito quanto è equiparabile a oggi questa situazione rispetto a questa circostanza rispetto a questa atmosfera sinceramente io di differenza vedo soltanto la tecnologia non c'è la radio e non c'è i giornali e basta c'è i social c'è la televisione c'è la possibilità di una maggiore comunicazione ma tutto si va sempre a schiantare contro il muro di gomma della tua della nostra della vostra totale in potenza di fronte a quelli che sono i veri meccanismi decisionali perché non saranno più 10 o 12 o 20 magari saranno 100 ma sono sempre stranei che prenderanno decisioni di vita e di morte per milioni e milioni e milioni di persone che letteralmente per miliardi per miliardi che letteralmente stanno giocando con i cararmatini del risico in questo momento chissà dove però è veramente drammatico veramente drammatico quando poi noi scherzosamente ci scagliamo contro il nostro nemico amato numero uno i vecchi è un po' questo il punto quando parliamo di guerra fatta da e per i vecchi ma combattuta dai giovani quando parliamo di società di politica di economia che è completamente governata da pochissime persone che molto spesso sono estrani e loro stessi alla realtà che viviamo noi ma che comunque la vanno a modificare a influenzare ben più di quanto noi potremmo mai fare sì noi secondo me ci sono dei livelli di potere nel mondo di oggi ma basta pensare a quello mediatico se te accendi la televisione se te vai su internet se te attingi a qualunque livello di informazione pubblicamente accessibile che letteralmente e fattualmente vedi e senti quello che qualcuno vuole farti vedere o sentire avere informazioni pure in questo senso cioè apolitiche non schierate non faziose richiede ormai una dose di lavoro e di ricerca importante e molto spesso cioè nemmeno giunge a un effettivo risultato no no molto spesso infatti è come una cipolla il cuore della notizia la verità per quello che può significare verità in un mondo dove puoi falsificare ormai letteralmente tutto e quello che mancava ci pensa l'intelligenza artificiale è letteralmente un pallino al centro di una cipolla dove te levi strati 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 e quando pensi di essere arrivato al punto c'è sempre l'altro strato e alla fine ti sei partito da una palla così e ti è arrivato un pallino così e ancora hai da allevare da allevare da allevare da allevare nel frattempo che te lo fai nel tempo che te perdi e dedichi energia a questo sforzo il mondo continua ad andare avanti ma non e mai per tua volontà sempre per volontà per l'artificio di questa dozzina di estranei di cui parlava Zwei che anche oggi non è cambiato nulla perché che garanzie ho che qualcuno che chi io in teoria ho delegato attraverso infiniti filtri a fare le mie volontà le faccio davvero a me sembra che ci sia sempre più discrepanza c'è sempre più scollegamento tra chi è rappresentato e chi rappresenta ovunque nel mondo in qualsiasi ambito in qualsiasi ambito voi pensate che la cosa in origine nella sua concezione limpida più democratica che doveva esistere cioè il comunismo ha portato oggi alle peggiori dittature che esistono al mondo cioè tutte le peggiori dittature le più feroci oggi sono tutte dittature a stampo comunista la Cina la Russia la Corea del Nord l'Iran sono tutti paesi super comunisti dove il comunismo ha attecchito ed è diventato ragazzi all'opposto di quello che voleva essere ma vi rendete conto che questa cosa è drammatica doveva essere qualcosa di bello il comunismo nella concezione di chi l'aveva immaginato doveva essere qualcosa che rendesse l'uguaglianza in terra dopo secoli di anziaregime di regalità di aristocratici il problema Fede sai qual è? è che è un'uguaglianza imposta è un'uguaglianza artificiale è un'uguaglianza che non è che non è possibile è utopica è distopica quasi cioè perché per imporre quell'uguaglianza non puoi fare altro che imporla con la forza e con il controllo perché l'umano l'essere umano non è uguale non è fatto per essere uguale ma l'uguaglianza imposta con la forza è comunismo appunto per questo ti dico che comunismo com'è diciamo comunismo reale diciamo non quello ideale si è trasformato quello ideale in quelle dittature proprio per questo perché non c'è un modo di applicare quell'utopia perché non siamo fatti non è nella nostra natura quella di essere uguali si può lavorare sulla cultura dell'accettazione della disuguaglianza e della valorizzazione della disuguaglianza ma non non si può imporre l'uguaglianza economica e sociale non si può imporre perché si creerà soltanto un qualcosa di terribile e peggio che andrà a esaltare ancora di più in maniera negativa la mancata accettazione perché se tu mi vuoi imporre che siamo tutti uguali facendomi soffrire creandolo con questo processo con la forza un po' quello che accade ovviamente non per fare dei paragoni ma un po' quello che accade oggi con il perbenismo e ne abbiamo già parlato questa wave di imposizione del tutto deve essere accettato non puoi dire una parola sbagliata il qualsiasi tipo di ironia spinta non va bene perché offende qualcuno è un'imposizione sociale che poi naturalmente sfocia nel processo inverso in alcuni casi cioè dove qualcuno dice basta ma avete rotto il cazzo quello che è diverso da me non deve esistere ma infatti secondo me perché limita ma ha rotto il cazzo siamo così tanto tolleranti siamo tenuti ad essere così tanto tolleranti da essere completamente intolleranti chiaro perché qualunque cosa tu dici o faccia ci sarà qualcuno esponente o autonominato esponente di una qualche minoranza di qualsiasi tipo che sia religiosa etnica che dirà che sei un fascista che sei un autocrate che sei un maschilista un maschilista o che è il patriarcato le cose un razzista nel paradosso totale di oggi ragazzi pensate che veramente il fine ultimo del femminismo è il patriarcato ma un altro nome voglio dire forse non è che stiamo proprio se prendete le femministe più accanite a volte ho visto fare dei discorsi ma perché anche lì come in tutte le cose cioè l'estremismo non è altro che la versione ritardata del concetto impossibile impossibile avere comunque un certo tipo di logica e di principio e non estremizzarlo cioè no si può far trovare una roba equa che segue a quel tipo di logia ma secondo voi cioè allora vi pongo questo dilemma la civiltà collassa non c'è assolutamente più nessuna memoria di prima niente va bene siamo di nuovo all'età della pietra sì l'uomo ha lo stato individuale ok non posso capire entrando nel femminismo no 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 non c'entra niente l'uomo inteso come genere umano scusa queste definizioni maschiliste patriarcali no comunque l'essere umano sì ha bisogno di sopravvivere ma noi biologicamente non siamo pensati per essere individuali in natura certo perché siamo deboli vabbè siamo fatti per essere sociali la necessità esatto è aggregarsi e prima o poi nell'aggregazione si vuole ordine se voi foste in quella condizione dovete quindi creare per sopravvivere una comunità una certa ragazzi bisogna prendere decisioni quale ordinamento scegliereste come vi organizzereste guardate ma abbiamo coscienza della nostra storia no della vostra storia no diciamo secondo me hai il cervello funzionante cioè se mi chiedi come va a finire va a finire esattamente come quello che è successo quindi si riparte da capo però è uguale si riparte esattamente da capo con tutte le innovazioni con omicidi con perché poi questo siamo cioè ripeto non è che non è che è più forte ho detto bisogna unirsi in comunità cioè ah ma te dici proprio alla Barbara quindi ci si mena ma sono quelle le origini della nostra società Fede sì sì nel senso ai tempi come si stabiliva chi comandava chi tirava la spadata che ammazzava per l'altro sì sì l'ho ucciso comando io funziona o sì cioè funzionava o sì fortunatamente prima ragazzi ora chi è come funziona chi è che comanda chi ha più bombe nucleari e così si chiudono discorsi mi prendete di sentire chi ha più soldi in realtà più chi ha le bombe nucleari no 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 alla fine della festa gli Stati Uniti governano e comandano solo perché hanno un fanta ovunque in tutto il mondo hanno bombe nucleari piazzate se te ci pensi che tu ne abbia 10 o tu ne abbia 200.000 non cambia nulla come cambia nulla cambia tutto ma no se te ne hai 1.000 o quell'altro non ha 100.000 bravo intanto con 1.000 comunque distruggo il pianeta cioè se no 1.000 come Putin la Nato è più forte ma io ho un milione di bombe che ci fai cioè anche se la Nato c'è una 5.000 è uguale cioè non ci rimane nemmeno la tua pelata non ci rimane voglio dire anche se ce n'è un milione se ci fai l'altro poi e spari sulla luna per sprecio tante volte c'è qualcuno anche lì però a parte gli scherzi io credo che in questo universo futuribile ma distopico che hai presentato io credo che qualcosa di diverso da quello che che è stato potrebbe avvenire solo e soltanto nel caso in cui ci sia coscienza del passato dove c'è una storia dove c'è cioè la avevo buttata la incasciata e te invece la riporti su un senso confuso io credo la memoria storica è importante quello che sto dicendo io credo che come oggi è il giorno della memoria e non è un giorno soltanto non lo prendo io come un giorno per i perbenisti dicendo oggi siamo tutti più buoni è stata una cosa brutta giorno della memoria significa ricordare sapere che cosa è successo e in teoria dovrebbe la storia insegnarci qualcosa quel qualcosa si dovrebbe tradurre semplicemente nella speranza che non si vengano ripetuti gli stessi errori o comunque nella consapevolezza che quegli errori sono stati commessi sono stati commessi da uomini e donne esattamente come noi e quindi se tu invece fossi nella condizione di prima ma con la coscienza storica cosa faresti cosa faresti questa è un'ottima domanda ripartirei innanzitutto dalla coscienza sociale cioè dal principio dell'uguaglianza e della libertà rendere quel concetto non un'aspirazione ma la realtà rendere intrinseco anche se poi le percezioni e la natura umana va verso un'altra direzione ma si può lavorare su quello che questi concetti sono la base fanno parte di noi come non fanno invece non fanno parte di noi ora ma lì dove si può ricostruire ripartendo dai dai bambini ripartendo dalla gioventù ripartendo da dal ricreare qualcosa io credo che la prima cosa che farei sarebbe con la coscienza storica che ho quello che siamo stati quello che siamo ripartirei proprio da quello perché se se quello diventa nostro del proprio dell'essere umano allora le cose non possono prendere quella direzione perché come sostengo sempre questi uomini i politici gli assassini o chi che sia non sono arrivati da Marte con una navicella non sono stati mandati quindi non sono nati cattivi non si nasce cattivi sono persone nate e cresciute e vissute dove siamo nati cresciuti e vissuti noi condizionate dalla società con cui hanno vissuto condizionate dalla loro situazione familiare dalla situazione condizionate in mille maniere ma nel momento in cui l'elemento diciamo che che va fuori dal branco è quello negativo e non il contrario come spesso ormai invece succede con noi tra di noi diventa un elemento isolato e l'elemento isolato non ha potere un uomo da solo Rudolf os huss huss non sarebbe stato in grado da solo di fare quello che ha fatto non sarebbe stato in grado di farlo non sarebbe stato in grado di farlo hitler non sarebbe stato in grado di farlo perché sarebbe stato da solo e probabilmente non sarebbero stati quelli che sono diventati però se c'è una cosa per esempio che oggi ci ha insegnato il web è che per quanto stramba e astrusa possa essere una teoria un'idea la possibilità di comunicarla virtualmente esattamente dal posto in cui stai seduto in questo momento a centinaia di mila di persone implica che tu possa trovare sicuramente almeno una persona che la può condividere ma quello è poco ma sicuro però stiamo ripartendo dalle basi vedete tutto finito sì 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 no no indubbiamente sto tranquillo però ci sarà ci sarà un domani ci sarà un domani la società si rivolverà ma certo bisogna vedere però da che basi si rivolve la società ovviamente poi le cose possono riprendere qualsiasi altra direzione però alla domanda che cosa faresti questo è quello che farei cercherei prima delle regole prima che diciamo che della gestione della società stessa una coscienza sociale alla coscienza sociale basata sulla memoria storica l'unica cosa che ci può permettere di non fare quello che è già stato fatto gli errori che già sono stati fatti è la coscienza storica poi si può sbagliare perché non è che si può dire che questa società sarà perfetta e rifondata su delle robe incredibili sicuramente siamo umani siamo anzi probabilmente 95 gli errori e 5 le cose giuste l'importante è che quelle 5 cose giuste continuo più dei 95 errori e che gli errori siano trovati per fare per fare la cosa giusta ti facevo tutta questa fede nell'umanità a base no io non ho alcun tipo di fede nell'umanità però se hai non ammetti che ci possa essere un qualcosa di deviante nella natura umana che può far divergere il tuo utopico orizzonte di crescita e sviluppo della coscienza sociale io certo che l'ammetto però credo più nella coscienza sociale e quindi pensi che quell'elemento verrebbe emarginato quindi che la società responsabile e che lo stesso elemento ma non solo è una questione di emarginazione è anche questione di dove cresci di come cresci ok poi effettivamente puoi essere perché poi esiste il carattere esistono mille cose esistono comunque le situazioni divastanti e devastate anche in una società ideale magnifica è naturale è normale diciamo che ridurre al minimo le possibilità e meno persone hanno possibilità di prendere quella via meglio è più persone ci sono che percepiscono la tua diversità non come un qualcosa dove tu devi essere emarginato isolato e sei un brutto e un cattivo ma dicono ok questo è un figlio di puttana ragazzi bene lavoriamoci tutti insieme diamo io una seconda possibilità io credo che non ci sia nessun essere umano che nasce cattivo questo ne sono allora basandoci su questo ragionamento e prendendo ad esempio Twitch la tua chat di tutte le persone che sono arrivate in chat scrivendo stronzate o comportandosi in modo tossico e avendo te in prima persona diciamo essendo di te ad operato per ovviamente non bannare a tappeto come tanti no no invece mi sono ho bannato a tappeto comunque alcuni sono arrivati no facendo stronzate uno gli ha dato le possibilità e poi si sono integrati e la chat poi ha fatto del suo meglio per includerli e per permettetemi fra molte virgolette normalizzarli quant'è la percentuale di successo? su 10 persone che spuntano in modo tossico in modo tossico io penso che siamo ben oltre il 50% ok però sì in un contesto sociale vuoi dire che qualunque persona è un contesto molto particolare però qualunque è un esempio nell'esempio di prima è come se noi abbiamo creato la nostra città la nostra nazione dove tutto funziona in una certa maniera e poi arriva un tizio dall'altra parte del mondo dove le cose funzionano in una maniera completamente diversa volevo arrivare esattamente qui crea una società perfettamente funzionante ma le immigrazioni come le gestisci? le gestisci che poi uno starà dove si trova meglio che ti devo dire? perché se no perché se no ti la vede al cazzo cioè qui funziona Putin scusa che cazzo di scozo è? no qui funziona se è il benvenuto sempre si riesce ad adattarti questo è il concetto di base chiunque è il benvenuto sempre e comunque vi siete mai soffermati a pensare invece a cosa vuol dire cosa ha voluto dire essere stato un tedesco nell'epoca post-olocausto? non avete mai pensato perché si parla sempre di tutto il resto ma dei tedeschi che sono che hanno conosciuto l'olocausto pensate che tutti fossero d'accordo e che poi hanno abbassato la testa dopo la sconfitta e fatto pazienza è andata così facciamo finta di nulla secondo voi che atmosfera c'era in Germania a quel tempo lì? dopo la sconfitta dopo tutto il casino dopo che il partito nazista è stato proprio stirpato portando alla luce poi quelle che sono radici malate di una società che potrebbe letteralmente essere chiunque perché il fascismo ha attecchito ovunque nel mondo cioè buono so Fede io credo che come in tutte le situazioni ci fossero più punti di vista secondo te l'atmosfera generale qual era? cioè l'area l'unica cosa che volevano in quel momento era star tranquilli nel senso in senso generale comunque vivevano in una nazione devastata dalla guerra alla fine a fine guerra divisa in due dal muro una nazione soggiogata a nazioni estere comunque mal vista essere tedesco non era bello in quel momento però come in tutte le cose c'era che chi secondo me subiva la situazione chi approfittava della situazione chi cavalcavalonda chi si è messo una maschera io credo che non sia un popolo nemmeno di quelli che ha mai poi tanto tenuto di conto delle opinioni altrui cioè nel senso non ho mai a parte le gag sui nazisti non ho mai percepito anche se parliamo oggi il mondo dei social no? se c'è di mezzo da prendere per il culo la Germania per cosa viene presa per il culo? per quello per quello ma non ci sono stereotipi diversi da quello non è come per esempio per gli italiani che ovunque tu guardi alcuni stereotipi ci sono dei tedeschi con il muso dei tedeschi che fanno versi sulla lingua sulla sonorità della lingua no no tipo tedeschi che tipo c'è un tizio che fa tutti i ril tipo un'altra giornata in Germania c'è un tizio ingriunito che poi incrociano l'occhio bello cioè ci sono dei luoghi comuni chiaro però non per esempio che ne so immagino all'italiano per riparlare di vello cioè l'italiano nel mondo ha 8 miliardi di prese per il culo l'italiano è uno stereotipo è uno stereotipo ma uguale il francese uguale lo spagnolo uguale il brasiliano uguale l'americano uguale il c no la Germania la Russia la Russia uguale la Germania no ha quel neo ha quella roba però è un popolo che essenzialmente è tirato di tutto e pensa che questi in 30 anni hanno completamente ricostruito una nazione intera e in 40 in totale 50 l'hanno resa la nazione più potente di nuovo europea più economicamente più stabile più più influente cioè quindi vesti mi importa una sega una certa di no boh vabbè si ci avete torto il muro grazie c'era una parte decente un'altra parte devastata ora riusciamo tutti insieme ecco il trattore montate sopra e si tira dritti ed è stato esattamente così in Germania all'indomani della guerra c'era molta prenesia di si si va bene andiamo avanti andiamo avanti tant'è che poi negli anni 60 si creò come tutte le volte come dopo ogni guerra c'è un boom economico e il boom economico della Germania fece poi quello che passò alla storia come il miracolo economico della Germania in cui la Germania partiva e tutti avevano questa fretta di dimenticare quello che era successo forse anche un po' troppo velocemente c'era questa volontà di nascondere un po' le macerie sotto il tappeto no? e però c'è stato proprio un autore che ha alzato quel tappeto e ha detto no guardate ragazzi che merda c'è qui sotto e che ha fatto della sua letteratura del suo raccontare ha fatto la voce di un'epoca storica fino a vincere il Nobel tra l'altro nel 72 questo autore che è appunto quello che in apertura vi ho detto che mi ha consigliato la nostra sorella azzurra è uno dei pochi che ha avuto la voce diciamo ha scelto di avere la voce di andare proprio a pescare nel torbido dicendo che cazzo guardate avanti esultate per il miracolo economico ma tutta questa responsabilità chi se la prende? non è che si può fare così che è finito tutto e allora no? e in un libro molto divertente molto bello molto triste ne parla in modo diffuso e diciamo ad oggi viene considerata la sua probabilmente opera più rappresentativa e migliore in questo senso un libro che lui definì innocente in modo ironico ma che fece un vero e proprio scandalo soprattutto tra i cattolici un libro che io vi ho portato il cui titolo è bellissimo tra l'altro e che si chiama meraviglioso Opinioni di un clown e lui è Heinrich Bull ora la mia pronuncia potrebbe essere sicuramente perfettibile spero che azzurrona non mi uccida sarà Buell penso no Buell Buell dovrebbe essere Buell in queste opinioni di un clown ci sono diversi aspetti notevoli di che anno è? è del 63 quindi siamo in piena epoca di rinascita economica tedesca ma Buell ma Buell va proprio a toccare tutti quei temi che sono scomodi per questa società di tedeschi così frenetica nel liberarsi di un passato scomodo un po' troppo frenetica secondo lui sia dal punto di vista sociale che economico c'è tutta sta fretta da andare avanti e di ricostruire ma delle macerie è qualcosa bisogna farne o le usi per ricostruire o di certo non le puoi mettere sotto il tappeto quindi che succede? lui proprio ha dedicato la sua narrativa ha questo scopo ed ha un'ironia ed una prosa che sono bellissimi cioè veramente è perfido ha proprio questa 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 narrazione satirica ironica ma giusta ok? e la cosa notevole di questo libro è che tutto questo libro di 250 pagine non è enorme ragazzi cioè sono tre ore a tre ore di tempo temporalmente sono tre ore questo il protagonista è un clown ok? però capiamo subito non un clown idiota diciamo così cioè un clown ma uno che percepisce il clown il fare il clown come l'arte del clown cioè lui è tutto è maniacale proprio tutto il suo numero lui si dice lui si riposa un artista perché far ridere lui si dice un comico un clown però far ridere e farlo nel modo giusto è una vera e propria arte un'arte che lui perfeziona con dei numeri e tutto però ahimè ahimè inizia la vicenda in un momento che non gli va molto bene a questo a questo Hans perché lui diciamo è stato lasciato dalla moglie Marie che lui adora e quindi lui attraversa un periodo di un down mentale lavorativo e professionale devastante dove lui proprio precipita nella depressione ma la cosa veramente notevole è appunto il tema della narrazione che sono tre ore cioè un tempo veramente se ci pensate l'alysis di Joyce per esempio è un giorno qui siamo sulle tre ore anche se l'alysis è così e in un mondo di persone così affastellate affrettate di volere andare avanti un clown un pagliaccio triste è l'unica persona che non indossa la maschera cioè lui è coerente con se stesso io sono questo malinconico depresso schifoso ma nella sua ingenuità nella sua semplicità lui guarda il mondo così com'è davvero e nel guardarlo vi svela questi paradossi tipici di una società che corre tanto veloce avanti ma che si lascia dietro delle voragini sociali storiche psicologiche ok altro che nasconde sotto il tappeto ci si nascondono loro sotto il tappeto in particolare lui è stato molto 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 feroce con i cattolici soprattutto e qui non gli si può che fare un applauso per l'enorme responsabilità storica del Papa del Papa della Seconda Guerra Mondiale che se non mi ricordo male era Pio XII che per lungo tempo i storici della Chiesa hanno detto che non ne sapeva nulla di là era difficile era uno dei campi di concentramento non se ne è saputo niente fino a... in realtà più volte provato che ne hanno saputo e come e la stessa Arendt nella banalità del male dedica proprio un capitolo molto pieno a spiegare le varie responsabilità della Chiesa nei confronti degli ebrei ma di tutti gli altri anche se il nazismo va detto che fu molto furbo nessun prete cattolico venne perseguito tranne un vescovo un vescovo polacco venne incarcerato ma non è che fecero man bas furono molto furbi e che sapevano che comunque il Papa aveva un'enorme autorità in Germania e loro non volevano o non sentivano ancora di poterla bypassare io ve lo consiglio questo autore e ve lo consiglio nella forma di questo libro perché sicuramente io continuerò a leggere questo autore che ha scritto così tanto è una cosa che Masso è preso è che è un libro di 60 anni fa e del 60 e ormai 61 ma ragazzi è di una modernità assurda cioè sembra di leggere per chi l'ha letto Philip Roth che è morto 5 anni fa che non ha mai vinto il Nobel ma è quello che ha scritto Lamento di Pornoi la pastorale americana che è la sua opera maggiore mi sembra vi ho portato Lamento di Pornoi e fa un sapientissimo uso ragazzi come in Sorgo Rosso quel libro cinese che vi ho portato di alternanze tra i ricordi del clown indietro di vari aneddoti dove sostanzialmente lui non fa che ricordare perché la narrazione è in prima persona non fa che ricordare e pensare ma in questo pensare spontaneamente emergono delle bolle queste bolle sono le contraddizioni sono i paradossi sono l'ipocrisia sono l'anima della letteratura delle rovine della letteratura delle vestigia come le volete chiamare dell'eredità scomoda che i tedeschi non vogliono affrontare una scoperta incredibile che devo ad Azzurrona anzi io tra l'altro volevo leggere per renderla più presente quello che mi ha mandato Azzu Azzurrona dice gli effetti dell'elocausto sulla letteratura tedesca ricordiamo che Azzurra è laureata in filologia in lingua germanica allora oltre agli orrori e alle disumanità che si sono protratte per tutto l'arco della seconda guerra mondiale è importante anche esaminare le conseguenze di ciò sui tedeschi e più nello specifico sugli autori tedeschi la lingua aveva subito uno stravolgimento totale moltissime parole vietate argomenti proibiti e font intoccabili tanto da mandare in crisi un'intera classe dirompente è la testimonianza a riguardo di questa condizione che si trova nel racconto il trentesimo anno di Ingeborg Bachmann ancora più importante il romanzo e tutta la letteratura di Heinrich 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 Bull opinioni di un clown che si legge in tedesco Anisten eines clowns Ein penso perché Heinz clowns io ho preso 28 alle esame tedesche all'università per favore ma davvero sì Hans Schneider è un clown che subisce un crollo psicologico nel momento in cui viene lasciato da Maria la donna della quale è perdutamente innamorato Hans è una figura coerente con la sua morale egli preferisce vivere onestamente col suo lavoro di clown piuttosto che diventare un'ipocrita come la maggior parte delle persone con le quali si relaziona la principale caratteristica di opinioni di un clown è che l'azione si svolge in un arco temporale brevissimo in tre ore infatti il lettore assiste ad un monologo incentrato sulla doppia crisi sentimentale e professionale Hans viene lasciato da Maria e vede la propria attività professionale andare alla deriva l'azione si svolge a Bonn capitale della Germania post nazista che tenta di risollevarsi dalla guerra in questa città in pieno fermento Hans si sente un escluso posto ai margini della società in perenne lotta con un ambiente che continua a sentire estraneo nelle tre ore nelle quali Hans si confida e descrive la sua deriva esistenziale troviamo una continua interruzione fatta di ricordi più o meno nitidi che si trasformano qui Bolle straordinario in una forte accusa contro la famiglia la società lo stato il cristianesimo soprattutto nella variante cattolica infarcita da un'inonia ben calibrata è decisamente adatta alla dimensione narrativa anzi è incredibile nella sua critica e nella sua disamina il clown di Bolle non diverte più non fa nascere più il sorriso nei volti degli spettatori i quali applaudono perché mossi quasi da compassione dinnanzi a una performance diventata sempre meno convincente tuttavia il clown non risparmia le verità scomode quelle delicate quasi al limite dell'offesa è un uomo disperato sull'orlo di una crisi di nervi terrorizzato dal veder prendere forma il duplice fallimento personale e professionale la letteratura di Bolle lo chiamo si mi rompe il cazzo è un concentrato di critica satira e accusa contro un sistema che sembra non aver imparato nulla dal passato e che vede ancora lontano una rinascita degli orrori mostrati al mondo intero sulla scia di questo tema anche i romanzi Doveri Adamo il treno era in orario e non disse nemmeno una parola nomen omen si potrebbe dire già dai titoli si evince la drammaticità del contesto in cui si trovano lui e i suoi personaggi costretti in una condizione di perdita della morale della condizione umana di colpa a nulla è servito a quei pochi ribellarsi e agire ora l'unica possibilità è rimasta agli scrittori agli unici a cui sono rimaste le parole è quella di denunciare e far emergere quanto più possibile il lascito di una società dittatoriale e sterminatrice l'obiettivo di questa nuova classe di scrittori è quella di far riemergere dalle ceneri un popolo e una condizione umana che sembra essersi persa negli abissi del nazismo e dei suoi delitti il mio consiglio è quello di immergersi completamente in queste letture che ci catapultano dentro una condizione umana che purtroppo non è così poi lontana uno spunto di riflessione sul post che non è scontata ma anzi una delle maggiori conseguenze della seconda guerra mondiale io concordo appunto con Azzurrona quest'autore qui penso sia il fiore all'occhiello della letteratura tedesca post per dire post bellica ma meglio diciamo post holocausto non ci sono particolari difficoltà nel trovare questo libro io per esempio non ho dovuto neanche ordinare lo su Amazon sono andato tranquillamente in libreria e l'ho trovato però lo troverete credo facilissimamente o comunque su Amazon credo ci sia in Prime senza nessun tipo di problema io vi faccio rivedere tutti i libri di cui abbiamo oddio di alcuni non abbiamo parlato nello specifico ma perché magari ne abbiamo parlato già in passato però insomma sono letture che sono estremamente importanti e collegate al giorno della memoria i fondamentali sono i primi di cui vi ho parlato quindi quindi abbiamo se questo nuomo di Primo Levi l'avete sentito mille volte mille volte però è una lettura è il primo scalino se uno vuole leggere l'orocausto poi abbiamo La banalità del male un libro scritto da una filosofa filosofa nonché ebrea che ha vissuto il periodo del del nazismo e che tratta del processo ad Eichmann poi abbiamo Rudolf Hoss comandante Hoss va bene Hoss comandante Auschwitz questa è un'autobiografia essenzialmente dove scrive di se stesso e di tutto il suo lavoro che ha fatto durante il genocidio e durante il governo di Adolf Hitler è il suo memoriale è il suo memoriale e poi abbiamo In quelle tenebre in The Darkness di Gitta Sereni libro di cui abbiamo già parlato libro che tratta essenzialmente si basa sull'intervista fatta da appunto Gitta Sereni a Franz Stangl Franz Stangl di cui abbiamo una dipiosativa in sovraimpressione anche lui gerarca nazista anche lui tra l'altro fatta in prigione che ha sempre bene o male trattato con meccanica meccanico svolgimento no? la processualità dell'uccisione nei campi di sterminio trattando tutto come numeri come un lavoro come un contabile no? con precisione matematica che però poi a un certo punto dopo alla fine di questa intervista viene posto davanti probabilmente ai suoi assestati per la prima volta per la prima volta pensate in dieci anni di prigione quante volte hai avuto modo di riflettere ma posto davanti ai dubbi umani davanti alle colpe sue umane e la storia racconta fatemi morirà di un malore di un malore la stessa notte in cui dopo che l'intervista è finita ufficialmente abbiamo citato ma l'abbiamo citato ma argomento meraviglioso citazione meravigliosa quindi l'avete visto ultimamente ma insomma ve lo andiamo a riconsigliare stefan zweig con il mondo di ieri e poi la rivelazione è arrivata la grande rivelazione grazie alla nostra amicona azzurrona che fede ha colto al volo insomma il suggerimento è andata ha trovato il libro se l'ha sparato e che poi lui legge alla velocità della luce e ne è rimasto colpito estremamente da Enrico Bolle questo è come lo chiamo io così è come lui proprio italianizziamo italianizziamo le cose opinione di un clown libro edito da Mondatori Mondatori Mondadori scritto nel 63 libro che parla di tre ore di vita di un clown depresso che vive la società tedesca in fermento economico ponendo dinanzi a sé e ai suoi spettatori credo ai suoi lettori anche l'ironia la triste ironia dell'aver dimenticato che cosa era da poco successo le colpe di una Germania e di un popolo che sta facendo di tutto per scordarsi dell'olocausto e dei trami della guerra bene detto questo ragazzi direi che per oggi abbiamo detto tutto quello che più o meno dovevamo dire vi do un bacione vi ringrazio trovate il libro di questo ragazzone su Amazon cercate Rapsodia un saluto al giorno della memoria ciao bimbi